La pace del Signore sia con tutti noi. Mie cari nella grazia vi auguro ancora una continuazione di una buona domenica a tutti quanti. Che Dio ci benedica e che possa, l'amare del Signore, posarsi in ognuno di noi. Quest'oggi il Signore mi ha messo al cuore di dire alcuni versetti. Su Matteo 9, chi ha una Bibbia, può prendere la Bibbia e può leggere insieme a me. Nel frattempo vogliamo pregare e dare tempo ad alcuni di prendere questi versetti. Matteo 9, gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie, Signore, ancora per quello che tu farai ancora oggi per noi. Ungici dall'alto, Signore, benedici ancora questi versetti che leggeremo, Signore, che possiamo meditarli secondo la tua volontà. Che che tu ci riempi di quello che vogliamo dire. Ti ringraziamo, Padre, ancora per noi, Signore, e per tutto il tuo popolo, che possa essere ripieno di Spirito Santo secondo la tua volontà. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene, miei cari, se avete appeso Matteo 9, iniziamo a leggerlo. Gesù, entrato in una barca, passò dall'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco gli portarono un paralittico, disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralittico, figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco alcuni scrivi. Pensarono dentro di sé, o sto in bestemmia. Ma Gesù ha conosciuto i loro pensieri, perché leggeva nei suoi pensieri. disse, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire alzati e cammina. Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse al paralittico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralittico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini. Fin qui è la parola del Signore. Mie cari, nella grazia, come abbiamo potuto leggere questa bellissima parola del Signore, in Matteo 9, abbiamo potuto appurare che Gesù si fece riconoscere dell'autorità che aveva ricevuto dal Padre. E per questa gioia che il Signore oggi vuole condividere con tutti noi, è che l'uomo, stando vicino a Dio, può anche prendere anche lui autorità. Se quest'uomo, o chiunque sia, sta nella grazia del Signore e fa le veci di Dio e fa ogni cosa secondo la volontà di Dio, prende autorità già dall'Altissimo che glielo dona, senza altro. perché sta scritto nella Sua parola chi segue me e segue il mio Padre ha potere in ogni cosa. Perché, come dice Gesù, se io ho fatto dei miracoli, voi ne farete dei maggiori. e questo lo troviamo scritto nella parola di Dio. Perché ne faremo maggiori? Perché noi siamo in tanti e ognuno, se si mette nelle predisposizioni del Signore, ognuno fa il suo miracolo. In miracoli siamo tanti. E Gesù ci parla ancora quest'oggi che ha preso l'autorità dal Padre. Vedendo la fede che avevano queste persone che gli portarono un paralito, gli disse alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma, anche oggi, vediamo che alcuni dicono ma questo qua cosa sta dicendo? E' vero? Forse, come diceva Gesù, sta bestemmiando questo uomo. Non dice la verità, non parla secondo verità, ma io, quello che sto parlando, sto parlando secondo la parola di Dio. Gesù ci dà autorità seguendo lui e seguendo il Padre facciamo la ronda di Dio. E se noi abbiamo fatto la ronda di Dio, nessuno ci vieta di fare quello che fece Gesù. Perché siamo fatti all'immagine di Dio. E se l'uomo decade è perché ha peccato. ma se si purifica dal peccato diventa beato, puro, unto dal Signore. Sapete, la legge di Dio è uguale per tutti. Se uno pecca diventa un peccatore ed è castigato da Dio. Ma se quel peccatore si ravvede diventa puro. nessuno lo può accusare. Nessuno può dire ma tu sei stato un peccatore vai via. No. Il peccatore perdonato è ancora come te. Tu che ti senti puro e magari che ti senti puro e non hai quella abitudine che è a lui. Perché tu ti senti arrogante, ti senti grande, ti senti potente, ti senti superiore a quello che ha peccato e si è ravveduto. Stai attento quello che tu stai meritando. Il peccatore si è ravveduto ma tu devi ancora ravvederti a quella situazione che stai pensando male di quell'uomo o di quella donna che ha peccato e si è ravveduto. qui ancora ci dice Gesù è entrato in una barca e passò all'altra riva e venne nella sua città ed ecco gli portarono un paralitico. Gesù stava andando al suo paese nella sua città conosciuto la fama di Gesù una grande folla gli portarono un paralitico è stata così forte quella fede vedete il miracolo già era iniziato dalla fede di quelle persone sapendo che Gesù veniva vedete Gesù veniva nella sua città conoscendo la sua fame di portare una persona per essere guarita un paralitico che non camminava miei cari nella grazia nel lettuccio quelle persone gli portarono un inferno oggi tu a chi stai portando a Dio e a Gesù stai portando un'anima stai portando un malato stai portando una preghiera per qualcuno cosa stai facendo vedete dobbiamo essere coerenti a noi stessi dobbiamo essere coerenti anche a ciò che Dio ci chiama di essere noi vogliamo essere coerenti alla prova di Dio fare il nostro dovere certo non siamo tutti dottori non siamo tutti vescovi non siamo tutti pastori non siamo tutti missionari non siamo tutti quelli ma nel nostro piccolo saremo come piccole pietre messe vicino alla pietra angolare ingatenata in quel muro che edifichiamo la casa di Dio ora non sentirti piccolo non sentirti strano non sentirti allontanato da tutti non sentirti mediocre ma sentiti un figliolo una figliola di Dio che sta cercando di ravvedersi e entrare per la grazia di Dio in quella stradina piccolina angustia bassa che si deve abbassare per passare ma oltre il passaggio di quella prova ti rialzerai e Dio ti vestirà di quella veste candida pura che appartiene ai figli di Dio ecco vedete questo è il grande passaggio della realtà cristiana ora Gesù vedendo quella folla che gli portavano quel paralitico guardando il paralitico colicato infermo nel lettuccio non poter altro di dire i tuoi peccati sono perdonati perché anticipatamente che il paralitico gli chiedeva la grazia sono state quelle persone prese di quella fede che portarono quell'uomo dicendo maestro ecco qui ti portiamo quest'uomo che ha bisogno di te ha bisogno della tua salvezza ha bisogno della tua grazia maestro salva quest'uomo e Gesù vedendo la fede di quelle persone disse i tuoi peccati sono salvati sono perdonati ma sembra il nemico cerca di distogliere ogni cosa perché dissero quest'uomo bestemmia nelle loro menti ma Gesù conoscendo i pensieri di quelle persone gli disse così è meglio per voi i tuoi peccati sono perdonati o alzati prendi il tuo lettuccio e cammina cos'è meglio per voi per salvare un'anima perduta cos'è meglio e qui lo vediamo letto dove dice ed ecco gli portarono un paralitico disteso sopra un letto Gesù venuto alla loro fede disse a paralitico figliolo coraggio i tuoi peccati ti sono perdonati ed ecco alcuni scrivi pensarono dentro di sé costui bestemmia ma Gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate cose malvagie nei vostri cuori infatti che cos'è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina ma affinché sappiate vedete Gesù affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità per di perdonare i peccati gli disse al paralitico alzati alzati disse allora al paralitico prendi cittoletto e vattene a casa il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua ma visto ciò la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini vedete è la fede di quelle persone che hanno portato a Gesù a fare quel miracolo oggi volete un miracolo volete che Dio vi dà quello che avete bisogno abbiate fede e lui vi donerà ciò che voi vi state aspettando ma se lo aspettate con autorità sapendo che otterrete otterrete ciò che chiedete perché dice la sua parola chiedete e vi sarà data bussate e vi sarà aperto Gesù quest'oggi tramite la parola sua tramite ancora questo video e tramite la mia persona ti sta parlando sta bussando al tuo cuore alla tua anima a te stesso cosa vuoi fare restare nel buio restare nel peccato oppure dare una svolta alla tua vita vuoi dare una svolta alla tua vita alza da dove sei scrolla tutto ciò che non è tuo dicono tutto ciò che non è tuo perché tutto quello che è peccaminoso non è il nostro lo abbiamo acquisito durante questa vita tezena dandoci spazio al nemico di pecare scrolla tutto lascia tutto ai piedi di Gesù dicendo a Gesù di salvarti e di benedirti tutto il resto della tua vita oggi vogliamo essere benedetti facciamo la volontà di Dio la volontà di Dio ce lo dice giorno dopo giorno legge la parola di Dio lo spirito di Dio ti guiderà attraverso la sua parola in ogni circostanza non allarmarti se oggi ancora non ti ha risposto perché i tempi di Dio non sono i tuoi lui non ha temo tutto e a volte ci vuole tempo il nostro tempo non è il tempo di Dio perciò non allarmiamoci se passa del tempo finché Dio risponde alle nostre preghiere ma lui sta in certo che risponde certamente alle nostre preghiere siamo siamo sempre fermi nella fede di non allontanarci da quella via che Dio ci sta precisando lungo il cammino incontreremo chiettamente degli ostacoli ma quegli ostacoli se li pretendiamo a Dio uno per uno Dio attraverso il suo figliolo ci libererà da ogni iniquità da ogni ostacolo e questo oggi ti voglio dire alzati scrolla tutto ciò che non ti appartiene purificati rivestiti da una veste candida attraverso la fede di Dio in Gesù dona tutto a Gesù dal tuo cuore la tua anima tutto te stesso e soprattutto fai la volta di Dio di amare il prossimo più di te stesso perché questo è il grande segreto amare il prossimo più di noi stessi e quando amiamo il prossimo più di noi stessi saremo beati felici in armonia nella salute eterna miei cari nella grazia non finirò mai di cercare di aiutarvi perché il Signore ha avuto compassione per me e io ne ho per voi nel mio piccolo voglio veramente aiutarvi alcuni dicono ma perché devo fare questo c'è qualche interesse no non ho nessun interesse se faccio questo è perché devo riconoscenza a mio padre e al mio fratello maggiore Gesù per quello che loro hanno fatto per me e come sta scritto nella sua parola chi ha visitato un ammalato ha visitato me chi ha dato al povero l'affamato ha dato a me chi ama gli altri ama me come dice la sua parola signore quando io ti ho visto nudo e ti ho rivestito ti ho visto affamato e ti ho dato da mangiare quando la sua parola dice quando hai dato a uno dei tuoi signori da mangiare da vestire qual è curato qual è cotito tutto quello che hai fatto lo hai fatto a me a volte c'è un giro di parole che magari non sono le stesse ma il risultato è quello che Gesù dice nella sua parola che ha fatto uno di questi simili lo ha fatto a me ora date una morsa alzati il paralitico si è alzato ha preso il sole e se è andato e se è andato a casa tu alzati prendi la Bibbia se ce n'è una leggila non una sola volta ma leggila tante 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 volte un'imperità di volte perché ogni volta che la lancerai riassumerai qualcosa di nuovo che la possibilità di Dio ti dà autorità per sempre in eterna bene mie cari giunto a questo punto vogliamo pregare e ringraziare Dio per quello che Lui ha messo nei nostri cuori per divulgarlo a voi gloria a te Signora e la Lui Padre Santo Dio d'amore ti vogliamo ringraziare ti vogliamo orare per quello che tu hai dato a noi quest'oggi nella tua parola nel nostro spirito nel nostro essere ti ringraziamo Padre per quello che tu veramente sei e per quello che sarai oggi domani e in eterna benedici ancora i nostri cari le nostre famiglie i nostri figli i nostri nipoti tutti quelli che ancora ci circondano Signore benedici tutti i popoli della terra grazie Padre benedici ancora chi ti sta cercando e non riesce a trovarti perché ti cerca male ma manda il tuo angelo Signore a incontrarli a dargli quell'esito quella via quella strada che porta a te ti ringraziamo Padre ti l'odiamo il nome è il tuo figlio Gesù Cristo che tu l'hai benedetto in eterna amè alleluia gloria a te bene mia cari io vi saluto nella pace del Signore vi abbraccio come faccio sempre con tutti i due bracci vi stringo a me e il calore mio lo sentite voi e il vostro lo sento io e diventa tutto un grande bacio doppio a Dio sia la loro e la gloria il ministro Gesù pace del Signore e del fratello Angelo Picone chi ancora mi sta conoscendo per le prime volte può aprire il mio sito ci sono cose meravigliose che possono guidarvi sul tragitto di questa strada bellissima della fede cristiana il sito si chiama www.gesullalucedelmundo.it ripeto www.gesullalucedelmundo.it tutto unito pace del Signore amén